Il notalesco espugna 3 a 2 i supplementari il terreno del Roma City nei play-out e conquista una salvezza epica. Le due squadre si studiano a lungo e la prima conclusione al 23esimo è per il Roma City con Cabella che dai 20 metri impegna Shiba. Al 29esimo il Roma City passa in vantaggio, angolo respinto coi pugni da Shiba, limite, raccoglie e conclude Garzia Martinoli con la sfera che dopo aver toccato il palo si inzacca per l'1 a 0. Al 39esimo il notalesco pareggia, Bartoli riceve in aria, attira Opara e lascia Scimia che realizza l'1 a 1 a porta sguarnita. Inizia la ripresa e al quinto Defendi riceve in profondità, si accende e conclude dal limite con Opara che sfiora quel tanto che basta per far uscire la sfera. All'undicesimo il Roma City si riporta in vantaggio, Matteucci dai 25 metri controlla e con un fendente insacca all'angolino il 2 a 1. Al 19esimo Forcini crossa dalla sinistra per il notaresco sul lato opposto, Bartoli raccoglie e scaglia un diagonale rasoterra che tocca il palo e si inzacca per il nuovo pareggio del 2 a 2. Al 22esimo disattenzione del Roma City, ancora Bartoli ci prova dalla lunghissima distanza ma non c'entra la porta. Al 31esimo Escimia a recuperare al limite, penetra in aria e poi conclude debole e centrale. Nel primo tempo supplementare non succede nulla. Poi al quinto del secondo, ancora Scimia svetta di testa a insaccare il 3 a 2 per il notaresco. La gara finisce qui col tripudio a fine gara di circa 100 notareschini giunti a Riano.